Salve amici appassionati Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mike94, ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di nuovo su Football Manager 2016 per iniziare una nuova miniserie Una serie che oramai faccio con ogni nuovo Football Manager, cioè i consigli sui migliori svincolati del gioco Quindi non siamo col Torino, non è una serie col Torino, ma inizierò a parlarvi dei migliori svincolati che potrete trovare su Football Manager 2016 Sto col Torino perché vabbè, ho dato dei consigli ad alcuni di voi proprio su questa squadra, proprio per questo ci troviamo adesso in questa squadra Comunque, oggi parleremo dei portieri e dei difensori, domani dei terzini Perché domani un altro video del genere? Perché sto preparando il video dei 2000 iscritti, per ringraziarvi dei 2000 iscritti Quindi uno speciale e quindi non ce la faccio insomma a farlo in così pochi giorni Preferisco prendermi un po' più di tempo per fare un lavoro migliore, per darvi modo di fare ancora domande sul video precedente E quindi semmai uscirà mercoledì, proprio per questo preferisco fare domenica e lunedì questa serie Quindi oggi portieri e difensori centrali, domani terzini, poi speciale Wigan e poi andremo avanti sia con Wigan che con questa serie Poi semmai farò anche una puntata su FIFA perché sono già passate le due settimane Comunque, a parte grazie ancora per aver raggiunto quell'obiettivo, oggi ripeto andiamo a parlare dei portieri e dei difensori Per quanto concerne i portieri, purtroppo non c'è nessun Victor Valdez dell'anno scorso, quindi non c'è un portiere fortissimo Però sono tutti validi portieri che possono servirvi sia come secondi per squadre di alta classifica Ma anche come titolari per squadre di bassa e media classifica, se non addirittura per squadre di serie B o ancora più basse, serie C1 Anche se, più che altro, per squadre di serie C1 con un buon budget o comunque, come abbiamo visto, squadre inglesi come appunto il Wigan Che ha comunque un maggior appeal rispetto a squadre italiane di serie C1 e anche un differente budget E quindi partiamo a bomba con il primo che è Vladimir Impronunciabile Che ha un buon giocatore, è un buon giocatore, ha un buon curriculum, soprattutto in Ucraina Ma comunque ha giocato con sempre ottime squadre, Stella Rossa, Metalburg e Mentalist Che comunque è una squadra parecchio interessante E ha ottime qualità mentali, non chiede poi chissà quanti soldi Vabbè, qualità fisiche normali, qualità tecniche da portiere non sono male A parte qualche pecca, è un giocatore che vi consiglio Come anche Steve Pleticosa, ottimo portiere, anche se è un po' più avanti con l'età Ma ragazzi, per quanto riguarda i difensori, c'è solo un giocatore over 35 Per i portieri ce ne sono due, ma comunque consideriamo che un portiere può arrivare anche a 40 anni E giocare a grandissimi livelli Comunque anche lui è un giocatore molto valido, Pleticosa, non chiede un contratto così alto Nessuno di questi comunque chiede più del milione Ma comunque dipende anche dalla squadra che ha allenato Ovviamente a un Milan potrebbe chiedere più soldi che rispetto a un Bologna E o a un Carpi o a uno Spezia Comunque anche lui è un valido giocatore Ha caratteristiche tecniche, diciamo, da portiere migliori del precedente Se non poi Goran Blazevic che è a 29 anni, quindi abbastanza giovane Buone qualità mentali, buone qualità fisiche, buone qualità tecniche Ovviamente, ripeto, nessuno è un mostro sceso in terra Però comunque sono tutti validi i portieri Lui ha un curriculum un po' meno valido Però, ripeto, come vice può essere niente male Come Saranov, che è ancora più giovane, 27 anni Quindi potrà essere un secondo portiere per diverso tempo Pure lui ha un curriculum non proprio da big Però sempre ottime qualità mentali, buone qualità fisiche E idem con patate, quelle del portiere Il portiere che sinceramente io preferisco Infatti avrei voluto portare anche nel Wigan e Frizon Perché ha veramente buone qualità Portiere, riflessi, rispinta pugno, presa Palle alte, buona qualità comunque mentali e fisiche Chiede veramente un ingaggio basso Meno di 300.000 euro E comunque ha un buon curriculum se alleniamo un'italiana Genova, Vicenza, Frusinone, Catania E non è stato mai titolarissimo se non con il Vicenza Però comunque è sempre stato un portiere decente O comunque un ottimo vice Che io per squadra e anche proprio come il Torino Consiglierei, insomma, da affiancare in questo caso Ad esempio a Padelli C'è poi il Paul Robinson Che è un inglese che ha buone, diciamo, qualità mentali A parte l'impegnotto, però carisma e concentrazione sono valide L'integrità fisica fa un po' paura Però come qualità tecniche è uno dei migliori Rispetto a quelli che vi ho consigliato fino adesso Ripeto, per un inglese è veramente perfetta Avendo un curriculum veramente ottimo È stato addirittura titolare nel Tottenham Poi nel Blackburn, nel Leeds Insomma, un giocatore veramente valido per un inglese Se no, infine, fra i portieri c'è Boban Bainkovic Che anche lui ha discrete qualità mentali Un po' più basse rispetto agli altri portieri Però come qualità tecniche è di sicuro migliore Uscite uno contro uno, rimesse Le spinte a pugno, prese, eccentricità Buone qualità fisiche Quindi veramente un giocatore interessante È stato titolare addirittura nella Stella Rossa Che comunque è una squadra di tutto rispetto E l'ultimo anno invece l'ha fatto nel Belgio Giocando comunque da titolare Giocatore quindi comunque di esperienza 30 anni quindi manco è vecchio Considerando sempre i portieri È un altro giocatore comunque parecchio interessante Ripeto, per i portieri io credo che questi siano i migliori Ce ne sono tanti altri svincolati e comunque validi Però sicuramente questi sono i migliori Questi sono i più validi Ripeto, per un squadre da bassa media classifica Se non addirittura Comunque un vice in una big Se vi manca appunto un vice Buffon Un vice Diego Lopez Un vice Andanovic O addirittura anche i terzi portieri Perché diciamo che Alcune volte il terzo Io non ho mai dato importanza al terzo portiere Nelle mie carriere Però ci sono allenatori Insomma di football manager O comunque di qualsiasi gioco in sé Che danno importanza E quindi potrebbe essere una valida alternativa Ripeto, io preferisco In caso di emergenza Fare sordire un under 20 Un under 18 Però Ognuno poi ha le sue idee Insomma se avete tanti soldi da spendere Questi giocatori possono essere comunque abbastanza validi Per quanto riguarda invece la difesa Ci sono qualche Ci sono giocatori interessanti Anche per squadre di alta calatura Come Vlar Che nella realtà è tuttora svincolato Ma è stato accostato a giocatori Scusate a squadre come Milan e Lazio Quindi non proprio Pippette E anche c'è Ognuno che è una nostra vecchia conoscenza italiana Ma Io comunque non mi dilungo più di tanto ragazzi Perché I giocatori sono tanti E soprattutto non c'è molto da dire Se non poi effettivamente Le qualità mentali Di portiere e fisiche Farvi vedere poi Il loro curriculum Per il contratto Ripeto Ci sono fra questi giocatori Che chiedono anche meno di 300.000 euro Anche un po' di più di 500.000 Ma comunque Non c'è nessuno Fra questi Che sfiora il milione Semmai Per il milione Ne parleremo poi Con i centrocampisti I trequartisti E gli attaccanti Che sicuramente Pretendono più Dindini Anche più del milione Addirittura due o tre Se poi andremo a vedere Ricky Albarez Ho fatto un piccolo spoiler Comunque in difesa Ci abbiamo Odrey Mazuk Che come curriculum Ha il Dnipro Dnipro scusate La Fiorentina Quindi vecchia conoscenza Anche italiana È stata in Ucraina In Belgio In una squadra Dell'Underlecht Come l'Underlecht Che è comunque valida Veramente valida Considerando i giovinastri Che sta sfornando In questo periodo E considerando che Due anni È stata fatta Da titolare assoluto Giocatore comunque Interessante Da ottime qualità Fisiche Ottime qualità Mentali E ottime qualità Tecniche Sicuramente L'unica Pec è questa I tre Cinque mesi Di infortunio Però Se voi Fate Come noi Facemmo con Victor Valdez Cioè Prendere questo Giocatore Verso Settembre Quindi Quando potete ancora Prendere I giocatori Svincolati Sicuramente Poi la società Vi permetterà Di comprarlo Perché Diciamo I tre Cinque mesi In fortuna Saranno Finiti Almeno Si spera Almeno I tre Sicuro I cinque mesi Un po' Meno Comunque Sicuramente Un giocatore Valido Per gennaio Mal che vada Giocatore Veramente Interessante Se no C'è Amogou Che abbiamo Anche visionato Con Il nostro Wigan Io non L'ho preso Per Diciamo L'impegno 8 E l'integrità Fisica 10 Però Come Panchinaro Diciamo Di una Grande squadra Non è Affatto Male Se no In una Piccola Pure Può essere Un giocatore Molto Interessante Infatti Ovviamente Da noi Nel Wigan Avrebbe Giocato Titolare Anche se Ragazzi Ripeto Il paragone Fra Campionato Inglese E Campionato Italiano Non si Può Tanto Fare Perché Abbiamo Visto Che In 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 Serie C1 Quindi Di League One Fanno Un Baffo Anche A squadre Di Serie B Italiana Cioè I soldi Che C'ha Il Wigan Anche Un Frosinone Se Li sogna Quindi Dobbiamo Sempre Fare Un Po Di Distinzione Amogou Secondo Me Per Una squadra Di Serie B O Di Bassa Classifica Italiana E Veramente Valido Blar Lui Mi Pare Che Chiede Anche Bei Soldi Anche Lui 4-5 Mesi Infortunato Iden Con Patate Quindi Anche Lui Potreste Prenderlo A Settembre Se Non Poi A Gennaio Però Vi Prendete Un Giocatore Che Mentalmente Mostruoso Potrebbe Giocare Anche A Centrocampo Secondo Me Perché A parte Marcatura 12 Ma Proprio Per il Resto Tanta Tanta Roba Poi Un Curriculum Da Far Paura A Tantissimi Giocatori Giocato Nel Feyenurd Che Una squadra Olandese Veramente Molto Molto Valida Nella Stonbilla E Altrettanto Una squadra Validissima In 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 C'è Ogucionievo Che In Italia Non Ha avuto Tanta Fortuna Ma Comunque Ha Giocato Nello Standard Liegi Dove Ha avuto Lì Si Ha avuto Parecchia Fortuna Poi Nel Twente Nello Sporting Nel Malaga In Siamo Si è Fatto Parecchie Squadre Sempre Da Svincolato Però È Il Classico Giocatore Torre Forte Fisicamente Che Spezza Le ginocchia Gli Avversari Mentalmente Non È Messo Male Ha Si 33 Anni Però Secondo Me Può Essere Interessante Per Una Squadra Di Bassa Classifica O Comunque Anche Come Ultima Scelta In Difesa Centrale Per Una Squadra Valida Poi C'è Ioris Madishen Che Mentalmente È Molto Valido È L'unico Giocatore Più Là Con L'età Però L'ho Messo Perché Ha Marcatura 16 Contrasti 17 Qualità Mentali Veramente Ottime Qualità Fisiche Di Assoluta Esperienza Consiglio Di Prendere Lui Perché Mentalmente È Mostruoso Un curriculum Anche Lui Di Tutto Rispetto Nella Zeta Nell'Hamburgo Nel Malaga Che Addirittura Ha Giocato Titolare Poi Pure Lui Nel Feienward Feienward Come Cazzo Si Dice Ripeto Un Giocatore Molto Molto Interessante Se No Il Nostro Mitico Anthony Gerard Qui In Una Squadra Ma Più che Altro Sta Facendo Un Provino Un Giocatore Che Per Squadra Di Serie B O Comunque Squadra Come Nostra Nel Wigan È Un Giocatore Veramente Tanto Interessante Le Qualità Mentali Sono Buone Si Prende Un Cazzo Di Stipendio Sui 200 Mila Euro Poi Colpi Testa Contrasti Marcatura Passaggi Controllo Palla Comunque Sono Tutte Discrete L'unica Pecca Sono Non Considerate Nemmeno Troppo La Fase Difensiva Del Nostro Wigan Che Per Il Momento Non Sta Andando Benissimo Ma Quello Diciamo Che Più Un Problema Di Tattica Si Devono Ancora Un Po Ambientare Ma Questo Anthony Gerard È Molto Interessante Se No C'è Yurika Buljat Anche Lui Comunque Un Buon Giocatore Non Ha Comunque Questa Grande Esperienza Ha Giocato Nel Mentalist Diciamo L'unica Squadra Importante Però Mentalmente Non è male Addirittura Determinazione 17 Impegno Fisicamente Pure Non sta Messo Poi Così Male Tecnicamente Colpi Testa Contrasti Marcatura Passaggi Tecnica Ha Soli 28 Anni Comunque Un altro Giocatore Interessante Come Anche Jonathan Bottinelli Che Ha 30 Anni Ottime Qualità Tecniche Considerando Sempre Che Un Difensore Buonissime Qualità Fisiche Rispetto Ai Giocatori Precedenti Che Abbiamo Visto E Qualità Mentali Pure Ottime Aggressività Veramente Sarà Un Mastino Ma Poi Le Altre Molto Valide Ha Giocato Addirittura Nel River Nel San Lorenzo Quindi In Squadre Molto Molto Valide Ha Fatto Anche Un Anno Nella Sampdoria Non Lo Sapevo Però Comunque Non Ha Avuto Successo In Italia Però Diciamo In Argentina Un giocatore Molto Interessante E Ripeto Ha Giocato In squadre Veramente Tanto Valide Non Proprio Le Prime Pippette Da Cross Silva Pure Un altro Giocatore Buono Può Giocare Come Libero Come Difensore Centrale Addirittura Anche Come Mediano Vabbè Qua Dice Anche Come Prima Punta C'ha Finalizzazione 10 Quindi Non È Male Terzino Destro Non Lo Pagano Però Quel Giocatore Non Voglio Dire La David Louise Però Che Ha Un Buon Dribbling Una Buona Tecnica Quindi Anche Come Mediano Potrebbe Esservi Utile Ma Come Difensore Pure È Veramente Tanto Valido Qualità Fisiche Ottime Qualità Tecniche Ottime A parte Intuito 7 E Ottime Qualità Tecniche Come Curriculum Ha Giocato Nel Tel Aviv Che Comunque Una squadra Importante Nel Salisburgo Il Basco Pure Che Non è Affatto Male Non è Proprio Una Big Però È Un Giocatore Che Può Esservi Utile Se no Parlando Di Giocatori Con Più Espedienza Un Ottimo Curriculum Considerando Che Ha Giocato Anche Un Anno Nel Chelsea Siviglia Stoccarda Sporting Sempre Feinemburg Hamburgo RKC AZ Insomma Un Ottimo Curriculum Un Giocatore Che Comunque È Stato Sempre Interessante Con Ottime Qualità Mentali Sicuramente Vi chiederà Un po' Di più Di Ingaggio Però Ne vale La pena Considerando Le ottime Qualità Fisiche Le ottime Qualità Mentali Veramente Ottime Le buone Qualità Tecniche Se lo facciamo Giocare Come Difensore Basta Come Terzino Già Un po' Meno Però È Interessante C'è Ignacio Canuto E Pure Lui Ottimo Pure Lui Potrebbe Giocare Come Mediano Lo potrebbe Fare Veramente Tanto Bene Considerando Le qualità Mentali Ottime Le buone Qualità Fisiche E Le anche Validissime Per essere Un difensore Centrale Qualità Tecniche Quindi Anche Lui È Un giocatore Che potrà Farvi Più Ruoli Addirittura Terzino Però Lui Forse È Un po' Più Lento Quindi Io Lo metterei Come Difensore Centrale Ma All'occorrenza Secondo Me Anche Come Mediano Può Fare Può Farlo Insomma Anche Azzardere Quasi Un regista Ma Quel Classico Giocatore Tipo Neto Che avevamo Che È Molto Più Valido Quasi Come Mediano Che Come Difensore Centrale Anche Se Ripeto Mi Mi Piacciono Tutti E due Stavo Facendo Confusione Fra Lo Schalke E Leibar Infatti Non Mi Ricordavo Neto In Quale Squadra Ce L'avevamo Però Comunque È un ottimo Giocatore Questo Ignacio Canuto Comunque Ha un Discreto Curriculum Ripeto Un giocatore Che Può Fare Più Ruoli E li Può Fare Veramente Molto Bene Dittura Finalizzazione 12 Potrebbe Quasi Giocare Come Attaccante Ma Ripeto Come Centrocampista Se non è Niente Male Come Difensore Ancora Meglio Poi Coelno Pure lui Un po' Un giocatore Un po' Più Low Cost Però Ottime Qualità Mentali Buone Qualità Fisiche E Buone Qualità Tecniche Diciamo Ripeto Un po' Più Low Cost Rispetto Agli Altri Giocatori Soprattutto Si prende Si prende Meno Proprio Perché È un Pellino Più Scarso Però Non è Affatto Male Ha Giocato Nel Porto Proprio 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 Standard Liegi Nello Sporting Nel Braga Quindi Fin L'unico Fra virgolette Giovane Che sono riuscito A trovare Questo Nikos Pantidos Che Non è male Considerando Appunto Che ha Solo i 24 Anni Che può Ancora Un pelino Crescere Almeno Per altri Due Anni Potrebbe Un po' Crescere E Ha Buone Qualità Mentali Discrete Qualità Fisiche Buone Anche Con le Tecniche Insomma 12 Colpi Testa Contrasti Marcatura Anche Lui Si prende Meno Però Ripeto È giovane E Come Diciamo Curriculum C'ha Il Panathinaikos Che Non è male E Questo Insomma Giocatore Giovane Io L'ho messo Più che altro Perché Quest'anno Più a centrocampo Ci sono giocatori Giovani Validi E di prospettiva Qua in difesa Ho avuto Parecchia Difficoltà Perché ci sono Tanti Over 27 Over 28 Veramente Validi In difesa Centrale Più che Importa Ci sono Giocatori Molto Interessanti Però Ripeto Over 28 Di giovani C'è solo Questo Nikos Pantidos Che però Non è un Mostro Può essere Un buona Riserva Un buon Difensore Per squadre Di bassa Classifica Però Questo Più per Serie B O Comunque Quel giocatore Che voi Prendete A massimo Se cresce Un po' Ci potete Fare Un po' Di Plus Valenza E niente Ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Questa Serie di video Io l'ho sempre Gestita così Ma credo che sia L'unico modo Per gestirla Cioè Farvi del giocatore Parlarvene un po' E amen Ovvio Che non è Divertente Nel senso È semplicemente Una guida Per tutti voi Per farvi conoscere Giocatori interessanti Svincolati Per le vostre carriere E niente Posso solamente Appunto Parlarvi di questi E ripetervi Che Importa Non c'è nessun Victor Valdes Ma sono tutti Bastanza validi Giocatori Chi più Chi meno Che possono fare Da bice O addirittura Terzo portiere Per big E Possono essere anche Buoni portieri Per squadre di bassa e media classifica Frison Io lo vedrei bene In un Che ne so Bologna Un Frosinone Insomma Le prime squadre Che mi vengono in mente Invece Difesa centrale Ci sono tanti Giocatori interessanti Canuto Veramente Sorprendente Ve lo consiglio fortemente Ma Anche Vlar Insomma Sono molti Molti giocatori Interessanti Che Potete prendere In considerazione Per qualsiasi tipo Di carriera Che state facendo Ovvio Stai ballenando il Barcellona Vi consiglio più di prendere Un giovane di prospettiva Comunque già uno Più affermato Però Ma che vada Vi finiscono i soldi E vi serve un difensore Perché non puntare Blar O anche questo Appunto Canuto Che Schifo Schifo Proprio non fa Detto questo Se voi conoscete Altri portieri Difensori centrale Validi L'avete usati Nelle vostre carriere Eccetera Mi fa piacere Che li iscriviate E niente Ripeto Spero che il video Vi sia piaciuto Come sempre Un saluto Da Mike94 Ripeto Domani ci vediamo Con i terzini E poi con lo speciale 2000 iscritti Ciao ragazzi Lasciate un bel like Ciao ciao